Però non potevo non fare un omaggio a quella che è la mia passione, io praticamente passo quasi tutta la giornata a occuparmi di Vasco Rossi, in macchina ascolto le novità discografiche e appena mi alzo per un paio d'ore ascolto delle heavy metal. Ecco questa si chiama la mia legge. Grazie a tutti. Hai mai provato a confondere gli incubi con la vita? Hai mai provato la paura di un sistema? Hai mai provato il fritto dell'anima? No, non hai mai provato. 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 Ho 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 mai provato.